Cinema sotto le stelle ci sarà anche quest'anno, nonostante l'emergenza, insomma si è riusciti a portare l'evento in una location d'eccezione. La vera protagonista dell'estate aquilana e soprattutto ancora una volta il ricordo di suo padre Aquino. Sì, naturalmente mio padre è mio padre per me, però non voglio essere di peso con questo richiamo a mio padre. Questa iniziativa che abbiamo ripreso qualche anno fa è perché mio papà la sentiva moltissimo, amava il suo mestiere, amava il cinema, amava vedere Piazza del Teatro Stockholm e soprattutto con tutte le persone che apprezzavano tantissimo queste rassegne cinematografiche. Ma il mio è anche un gesto verso la città perché per me l'Aquila è la mia città, è dentro il profondo del mio cuore. Quindi ho detto anni fa che ci tenevo a riprenderla questa rassegna e avrei fatto di tutto per portarla avanti tutti gli anni e così sto facendo. Quest'anno poi abbiamo questa location da Urlo, la Scalina di San Berardino, che è stata allestita in una maniera incredibile. Faccio i complimenti all'amministrazione perché veramente hanno fatto un qualcosa di unico, ho mai visto io, in vita mia, l'Aquila è una cosa così curata in ogni piccolo dettaglio. Appuntamento quindi il 30 luglio, fino al 2 poi ci sarà una piccola pausa e si riprende fino a Ferragosto. Fino al giorno 14 agosto, sperando che tutti i film che siano stati scelti siano di gradimento. Aspettiamo tutti quanti, numerosi, per poterci godere queste bellissime serate di cinema all'aperto. Sindaco, allora ci sarà anche quest'anno Cinema Sotto le Stelle nella vera protagonista dell'estate aquilana, la scalinata di San Bernardino? Sì, il Cinema Sotto le Stelle raccoglie il testimone dai cantieri dell'immaginario, lo cede per qualche giorno alla Società dei Concerti Barattelli per la rassegna con Diodato, Alex Britti e Carmen Consoli, lo riprende subito dopo e ci accompagna fino alla vigilia di Ferragosto per poi ripartire con Aspettando la perdonanza in questa nuova estate aquilana che recupera uno spazio, che è quello della scalinata, che recupera la tradizione, che è quella del Cinema Sotto le Stelle, ma che è in grado di innovarla. E per questo ringrazio Marco Reato, che è il figlio di Aquino Reato, cui è intitolata la rassegna, perché è lui ad offrire le pellicole, anche se oggi non si può parlare più di pellicole, come un tempo, come i tempi in cui Aquino girava per le piazze e per i paesi a raccontare il cinema popolare, quello che vedeva un'ampia partecipazione. E ringrazio anche Mamme per l'Aquila, che ci ha aiutato nella scelta dei film, perché sono tagliati per le famiglie, c'è un'offerta variegata, l'ingresso è gratuito, le prenotazioni però sono obbligatorie, si faranno online, insomma invitiamo le famiglie, le mamme, i papà, i più piccoli, a vivere insieme a noi questa estate aquilana. Atiziana Umbrico, in rappresentanza per Mamme per l'Aquila, l'associazione che si è occupata di fare questa selezione, insomma, per la rassegna cinema sotto le stelle. C'è un po' di tutto? Sì, allora, la lista era lunga, quindi non è stato semplice individuare i film, ovviamente quindi abbiamo fatto una ricerca su quelli più recenti e soprattutto che potessero rispecchiare il target richiesto dal comune, per quanto riguardava la rassegna, che era il target delle famiglie e dei ragazzi, quindi abbiamo individuato dei film che potessero essere generi un po' diversi, commedia, azione, avventura e anche cartoni per i più piccini. C'è un filone? In realtà no, perché visto che comunque il tema era abbastanza ampio, quindi era semplicemente cercare di rispettare il target ai quali rivolgere queste proiezioni. E quindi invitiamo tutti quanti a venire a vedere questi film, proprio come diceva anche il sindaco, per riprendere un po' le vecchie tradizioni. Ma soprattutto un evento importante in quest'anno, che il cinema probabilmente è una delle grandi vittime insieme al teatro, in generale allo spettacolo, della crisi economica conseguente alla pandemia. Esatto, anche il fatto che sia comunque gratuito, in grasso libero e all'aperto soprattutto, quindi occasione quale più appropriata per riprenderci quello che da tempo è mancato un po' per tutti.